Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra pillola sull'indice di Plano in due minuti. Settimana decisamente negativa, quella appena trascorsa Piazza Affari ha perso il 3,36% e tutto sommato alla fine è stato uno dei listini meno peggio della settimana. In ogni caso l'apertura di lunedì è stata in netto gap down, martedì come vedete siamo rimasti sempre sui livelli con chiusura sotto i 22 mila punti, bene la candela di mercoledì, gap up, gap chiuso e a lungo, siamo tornati al test dei 22 mila e 500 punti, siamo andati a chiudere il gap down dell'apertura di lunedì, tutto questo in attesa della decisione della Fed di mercoledì sera, Fed che poi ha alzato di 75 punti base il tasso di interesse ed ecco che la reazione di giovedì si è partiti decisamente più bassi, si è proseguiti al ribasso, a questo punto è intervenuta la riunione della BCE e ha dato se vogliamo il colpo di grazia, dando fine al QE europeo, dando una prima timida indicazione di un rialzo dei tassi, ma soprattutto nessuna indicazione per una copertura anti spread e pertanto come vedete anche nella seduta di venerdì, dopo alcune parole per cercare di mettere una pezza alla situazione vi è stato poi l'affondo americano che ci ha riportato sui minimi. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, la chiusura del gap down, la tenuta dei 21 mila e 500 punti che erano stati sfiorati nella seduta di martedì, ma non più nelle sedute di giovedì e venerdì, pertanto i minimi della guerra, dell'invasione in Ucraina, quindi il minimo che abbiamo toccato vedete il 7 marzo è ancora lontano se vogliamo, stiamo ancora a 500 punti di distanza, certamente se non peggiorano la situazione, ma Putin sta iniziando a fare una forte pressione, una forte guerra del gas, per cui se non ci fossero, se non ci saranno nuove forte pressioni a riguardo i mercati potrebbero aver detto che 21 mila e 500 a questo momento potrebbe essere un nuovo bottom da cui ripartire, se invece non sarà così, chiaramente testo dei 21 mila punti, quel punto pare decisamente consolidato. Se dovesse riuscire a rompere i 22 mila e 5, primo livello importante diventano i 22 mila e 800 punti e a seguire area 23 mila punti. Con questo è tutto, vi auguriamo un buon fine settimana, naturalmente è sempre a credito un like per l'analisi.